Antonello Venditti sarà ospite di Mara Venier a Domenica Ini il 17 novembre e per l'occasione ripercorriamo la vita privata del noto cantautore. Partiamo ricordando l'ex moglie Simona Izzo ancora arrabbiata con lui dopo il divorzio per poi parlare della dedica fatta alla conduttrice Monica Leofreddi, una canzone ancora oggi immortale. Scopriamo insieme gli eventi più significativi della vita di Venditti, incluso il sostegno ricevuto da Lucio Dalla dopo la separazione da Izzo. Simona Izzo, famosa attrice, regista e doppiatrice, è stata sposata con Antonello Venditti dal 1975 al 1978. Il matrimonio durò solo tre anni ed è sempre stato burrascoso. Secondo quanto dichiarato da Izzo sarebbe finito a causa di tradimenti da parte di Venditti. Dopo la separazione i rapporti tra i due sono rimasti tesi. Venditti ha raccontato che Lucio Dalla lo ha aiutato a superare il periodo difficile, convincendolo a tornare a Roma per la famiglia. Antonello Venditti e Simona Izzo hanno un figlio, Francesco Saverio, diventato attore e doppiatore. Venditti ha avuto una lunga relazione con Maurizio Costanzo prima di sposare Ricchi Tognazzi nel 1995. Monica Leofreddi è stata la compagna di Venditti per quasi dieci anni e a lei ha dedicato la canzone ogni volta, nel 1995. Durante un'intervista verissimo, Leofreddi ha raccontato che la relazione con Venditti è finita a causa dei suoi tradimenti. Nonostante ciò è stata una parte importante della sua vita. Leofreddi ha vissuto una vita tranquilla con Venditti lontana dai tour e dai concerti. La relazione